Ciao a tutti, oggi prepareremo l'affogata al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono latte intero, cacao amaro, zucchero, gelato alla vaniglia, scaglie di cioccolato e panna montata per decorare. Andiamo via alla ricetta. Per prima cosa riporre il gelato in congelatore che ci servirà in seguito. Mettere nel boccale lo zucchero e il cacao ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il latte e azionare il bimbi per 5 minuti, 37 gradi, velocità 4. Il composto è pronto, prepariamo l'affogato. Mettere nel bicchiere il gelato. Versare il composto al cioccolato. Decorare con panna montata e scagliette di cioccolato. Affogato al cioccolato! Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!